Benvenuti nel mondo degli orologi Dietrich. Dietrich è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2010 dal designer francese Emmanuel Dietrich. La filosofia di design di Dietrich è di creare orologi futuristici e audaci che si distinguono dagli altri marchi di orologi di lusso. Gli orologi Dietrich sono conosciuti per il loro design innovativo, che spesso presenta forme geometriche e linee forti, e per l'attenzione ai dettagli. La collezione di orologi Dietrich comprende diversi modelli, ognuno dei quali ha un design unico e distintivo. Uno dei modelli più iconici di Dietrich è il modello Oti 1, che ha una forma esagonale distintiva e un movimento al quarzo. Questo orologio presenta una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in gomma morbida, il che lo rende comodo da indossare per tutto il giorno. Un altro modello di orologio Dietrich molto apprezzato è il Perception, che presenta un design a tre livelli e un movimento automatico. Questo orologio ha una cassa in titanio con finiture in PV di nero e un cinturino in gomma nera, il che gli conferisce un aspetto elegante e robusto allo stesso tempo. Il modello Otime, invece, ha una cassa rotonda con numeri arabi grandi e un movimento al quarzo. Questo orologio è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui argento e nero, ed è dotato di un cinturino in pelle. Dietrich utilizza solo materiali di alta qualità per creare i suoi orologi, come acciaio inossidabile, titanio e vetro zaffiro. Questi materiali conferiscono agli orologi Dietrich una resistenza e una durata eccezionali, che li rendono ideali per chi desidera un orologio di lusso che duri nel tempo. Uno dei tratti distintivi di Dietrich è il produrre solo un numero limitato di orologi ogni anno, il che li rende particolarmente esclusivi. Gli orologi Dietrich sono apprezzati dai collezionisti di orologi di lusso e dagli appassionati di design che cercano qualcosa di unico e innovativo. Inoltre, gli orologi Dietrich sono realizzati con una grande attenzione ai dettagli e sono il risultato di un processo di produzione artigianale che richiede tempo e competenza. Questo significa che ogni orologio Dietrich è unico e ha una personalità propria. Con la loro combinazione di materiali di alta qualità, design unico e attenzione ai dettagli, questi orologi sono perfetti per chi vuole distinguersi dagli altri e avere un pezzo di alta gamma che duri nel tempo.